cari lettori di extreme hardware questo è il video di presentazione del dissipatore hyper 103 di cooler master nuovo modello che presenta un'altezza molto contenuta e tre heat pipes a contatto diretto precisiamo che questo video è semplicemente appunto la dimostrazione di quello che c'è all'interno della scatola e daremo appunto un'occhiata complessiva al modello per quanto riguarda i dettagli vi invitiamo a leggere la recensione scritta con delle fotografie dettagliate ma soprattutto test termici e acustici di questo modello quindi in sostanza procediamo alla presentazione la scatola esterna classica cooler master insomma chi conosce questo marchio la conosce già non ci dilunghiamo in dettagli inutili comunque sia ci viene subito mostrato che presenta trade pipe a contatto diretto una tecnologia x vent e air guide technology in cosa consistono cosa ci voglio dire cooler master in sostanza che è presente che sono presenti quindi trade pipe da sei millimetri che fanno diretto contatto sull'ihs della cpu solo che notiamo già dalla fotografia che questa tipologia di contatto diretto fa parte della prima serie in sostanza la nuova serie non presenta una spaziatura all'interno delle eight pipes e questa insomma è una caratteristica che porterà a una mancata ottimizzazione a livello strutturale ad esempio qualora fosse mancata questa spaziatura avremmo trovato delle probabilmente un numero maggiore di heat pipes nella nella radiatore x vent technology ovvero che sono presenti dei motivi funzionali che permettono una migliore ventilazione per convezione di calore quindi verso l'alto air guide technology questa è una cosa interessante perché appunto come da come si evince dalla struttura dissipatore che presenta quindi una direzionalità il flusso di ventilazione sarà ottimizzato appunto in funzione dell'uscita dell'aria che è che tende appunto con queste classiche ventole verso i lati e non direttamente ad esempio ci sono ventole come abbiamo visto nei nostri round up termici delle ventole che contano addirittura fino a 53 modelli recensiti fino adesso come abbiamo visto ci sono ventole che portano il flusso d'aria verso la parte posteriore addirittura fino a un metro di distanza ma non è questo il caso confezione classica viene riportata la compatibilità socket 2011 1366 1156 55 150 e 775 socket fm2 fm1 am3 più am3 e am2 non è riportata la compatibilità con am2 più parte posteriore cosa troviamo qui alcuni dettagli interessanti tra cui appunto la larghezza di 108 millimetri l'altezza di 138.5 millimetri e lo spessore della base di 35 millimetri e visto frontalmente mentre lateralmente di 76.4 millimetri questo diciamo è importante qualora fosse analizzata la base della della cpu in esame ma per noi comuni mortali fondamentalmente non serve l'altezza è bene notare che è specificata in relazione alle heat pipes questa è una cosa positiva quindi 138.5 millimetri al massimo non ci saranno novità o problemi sotto questo punto di vista cosa notiamo qui specifiche tecniche e questa come al solito cooler master riporta una gran quantità di specifiche bene comunque insomma vi invitiamo a vedere la fotografia nella recensione sappiate che ha una ventola da 92 millimetri e la fan air flow 43.1 cfm al massimo più o meno 10 per cento che appunto dipende dal motore pressione d'aria 40 mila ore di mtbf della ventola questo dice un valore contenuto ma d'altro nel dissipatore costa poco quindi cosa pretendete bearing type long life sleeve bearing questa è una cosa appunto che riguarda un elemento che riguarda la tipologia del motore che è stata utilizzata e dalla tipologia del motore derivano gli mtbf dba 30 dba al massimo rilevazione in camera anecoica bene i 30 dba sono un valore che difficilmente riuscirete a misurare in quanto generalmente il rumore che viene misurato con un classico fan con un classico rilevatore appunto di di rumore si attesta con una rumorosità ambientale a circa 33 34 dba su scala db su scala quindi il camerane coica non fate riferimento a questi valori anche perché cambiano da marchio da produttore a produttore peso 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 dove viene riportato sì 500 grammi quindi in sostanza un dissipatore molto compatto che pesa poco e quindi non ci saranno problemi per quanto riguarda lo spostamento apriamo la confezione cosa troviamo scatolina cooler master vediamo se riusciamo un attimo d'accordo scatola cooler master e vabbè la analizzeremo successivamente piccolo foglietto informativo per quanto riguarda la garanzia e va bene foto ma ricordiamo sul portale nel link che trovate sotto al video manuale e anche qui e rimandiamo le fotografie dirette un altro foglietto illustrativo stesso discorso e qui viene spiegato appunto il contenuto della confezione e le procedure di montaggio per tutti i vari socket rimandiamo sempre al al forum per i dettagli comunque sia ora mostriamo immediatamente il contenuto della confezione perché magari potrebbe servire a qualcuno che sta osservando il video quindi dissipatore backplate retention plate due che variano appunto in base socket come vediamo infatti sono ripetute sia nella parte superiore c e j variabili in base socket plastic washers stand off screw nuts thermal grease quindi c'è un tubetto di pasta termica proprietaria cooler master non sono presenti altri modelli comunque ad esempio enermax e inserisce della dow corning ma è un altro discorso qui è un foglietto che si saranno sbagliati sinceramente non ho idea per quale motivo l'abbiano messo confezionamento beh questo è fustellati di polietiliano espanso ben diverso dal polistirolo che tende a distruggersi al contatto quindi ottimo imballo come al solito bene qui è partito il dissipatore comunque si dimensioni davvero molto contenute 138.5 mm di punto 2 non ricordo con profusione ma si tiene in una mano e avanza spazio bene questo era il discorso per quanto riguarda la base di contatto fa parte della vecchia tipologia comunque sia heat pipe a contatto diretto e questo tenderà comunque a migliorare un attimo la superficie di scambio termico il sistema di montaggio delle ventole quindi presenta un sistema clip che abbiamo già visto nella recensione del tpc 800 ventola da 92 mm ventola osserviamo un attimo si è pvm quindi in sostanza verrà permesso un controllo in base alla all'utilizzo appunto della cpu per quanto riguarda la si queste erano le caratteristiche che menziona cooler master x20 x vent technology e air guide technology comunque sia rimuoviamo la ventola e vediamo in cosa consiste il dissipatore se c'è qualche elemento interessante bene innanzitutto possiamo notare che nella base è presente un una sorta di mini radiatore passivo ovviamente questo materiale è alluminio quindi in sostanza non essendo rame il contatto sarà peggiore ovviamente per un dissipatore di questo prezzo non si possono chiedere elementi ulteriori per quanto riguarda la solidità strutturale adesso vi faremo vedere la deformazione delle alette con un cacciavite dall'alto bene io non non sto esercitando pressione non sto esercitando pressione questo è quello che si nota cioè in sostanza non c'è si può dire che non c'è la minima deformazione sul dissipatore come notate questa è un'ottima cosa perché generalmente su questi modelli si risparmia molto sulla qualità costruttiva e quindi in sostanza è un dissipatore molto compatto piccolo ma le rifiniture sono di ottimo livello ad esempio possiamo notare la scudatura nella parte terminale delle heat pipes in questo caso sì questa sono ingresso uscita delle heat pipes il logo cooler master nella parte superiore e quindi in sostanza c'è poco altro da dire se non che questo profilo interno appunto che serve per un discorso di ventilazione tendente appunto verso il centro del dissipatore stesso questa è la base adesso vediamo se la base presenta planarità meno sembra essere appunto perfettamente planare questo è un discorso che è possibile grazie alla particolare lavorazione di questa base ovviamente essendo di questa tipologia cioè hdt ovvero con heat pipes a contatto diretto deve essere necessariamente planare proprio per via di una lavorazione precisa questo comporta che su cpu ad esempio del socket 1366 oppure 1156 o 55 che presentano un sistema di ritenzione non è diciamo qualitativamente inferiore rispetto a quello delle piattaforme con socket 2011 ci sarà una convessità della dell'iHS della cpu e quindi questo porterà a uno scambio e perdonatemi della della base e quindi per via appunto del sistema di ritenzione la convessità della base porterà a un migliore ad una migliore impronta termica ovviamente in questo caso essendo la base planare si otterrà un contatto migliore su tutte quelle soluzioni che appunto sono diciamo ottimizzate sotto questo punto di vista per quanto riguarda il dissipatore fondamentalmente c'è poco altro da dire perché abbiamo già spiegato in sostanza tutto adesso passiamo molto velocemente alla ventola la ventola ha un numero di serie a 90 25 trattino 22 rb trattino 4 bp trattino f1 qualora foste interessati questo è il seriale che dovete andare a cercare non presenta i 4 cavi aventi appunto questa finitura che è molto rigida non tende a far staccare i connettori all'interno non abbiamo mai avuto problemi di nessun tipo sinceramente quindi è un'ottima notizia il sistema di blocco della ventola appunto prevede l'installazione di 4 distanziatori gommati che permettono appunto un isolamento vibrazionale della ventola sul corpo del radiatore del dissipatore quindi in sostanza è già tutto preassemblato non dovete fare altro che attaccare il connettore e montare ovviamente il dissipatore il sistema di blocco risulta essere perfetto ovviamente non è possibile fare un push pull per un motivo innanzitutto cos'è push pull? push cioè l'aria viene spinta pull l'aria viene succhiata in sostanza viene presa ecco diciamo viene sì quindi in sostanza questa push pull è utilizzabile con dissipatori simili ad esempio a questo thermal right true spirit 120 precisamente il modello della serie co-gauge dissipatore appunto che presenta quindi una faccia con una ventola installata in questo posizionamento e una dall'altra parte bene il cooler master hyper 103 non permette questo ed ovviamente data la tipologia non serve perché alla fine una ventola da 92 mm capace di girare fino a 2200 rpm è già abbastanza per la categoria di sistemi in cui deve essere installato questo modello bene adesso analizziamo molto velocemente il contenuto del bundle del dissipatore apriamo la scatola e vediamo in cosa consiste sì in sostanza questi sono i due meccanismi di blocco relativi ai socket menzionati precedentemente e qui una particolarità ecco appunto il backplate backplate ecco questo è il lato amd perché è importante appunto utilizzare il backplate ovviamente seguite le indicazioni presenti sul manuale sono presenti due orientamenti uno per quanto riguarda appunto i sistemi amd e uno intel intel che nel caso appunto di del socket 2011 non necessiterà di backplate per via del sistema intel già presente all'interno del backplate della vostra scheda madre cos'è questa vediamo se riusciamo a mettere a fuoco benissimo questa è una vite che come notate presenta due standard uno superiore più grande e uno inferiore ora non ricordo con precisione se è m3 m3 e mezzo non ricordo comunque in sostanza queste quattro viti serviranno appunto per l'installazione sui sistemi intel con socket 2011 in sostanza questo è il bundle e non c'è nient'altro vi invitiamo comunque ad analizzare insomma tutto il contenuto con dovizia di particolari nella recensione scritta in cui troverete fotografie, dettagli, test termici e quant'altro vi ringraziamo per l'attenzione fateci sapere cosa ne pensate questo diciamo è uno dei primi video della nuova serie per dissipatori di questa fascia di prezzo buongiorno a tutti